Si chiama Basilicata Cine Turismo Experience, il progetto di marketing territoriale finalizzato allo sviluppo locale unendo cinema, turismo, cultura e autenticità. Un'iniziativa ideata dal Gal Bradanica che ha trovato in breve tempo il coinvolgimento di APT Basilicata, Lucana Film Commission, Comune di Matera e il coordinamento scientifico del direttore artistico dell'ISCIA Film Festival Michelangelo Messina, ideatore e promotore sin dal 2013 del Cine Turismo in Italia. Il Gal Bradanica ha il compito di promuovere il suo territorio e siccome abbiamo dato molta importanza al turismo rurale e siccome il turismo è anche competizione ci siamo attrezzati per rendere il nostro territorio più competitivo e attraente. Il progetto pone al centro l'emozione cinematografica per la valorizzazione e la promozione del territorio e intende collegare la dimensione locale a quella internazionale. Un momento di lavoro che unisce molte forze positive per capire come rispetto alla sfida del 2019 il Cine Turismo possa diventare una colonna portante del sistema Italia. Fino a domani in programma numerosi eventi tra cui incontri e tavole rotonde. Cinema e turismo, due facce della stessa medaglia che non stavano insieme. Adesso con questo progetto stiamo cercando di farli dialogare. Il cinema come grande veicolo di promozione turistica per costruire a Matera, nella collina materana e poi in Basilicata, dei percorsi turistici fruibili.